va bene ora per farla girare a destra vai dall'altra parte vale vicino piano 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 ok prova a fermarti prova a fare la tua barra indietro chi me la porta giù no di là di là brava ok bene 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 l'altra parte vai avanti ok giro l'intorno tu brava bene 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 la porti giù tu